il nostro film che si intitola quello che verrà è solo una promessa parla diciamo prende spunto da un fenomeno molto particolare e forse non più unico al mondo è legato al cambiamento climatico ed è un fenomeno che si verifica in una isola delle nove che costituiscono l'ascipelago di Tuvalu nel sud pacifico e quello che avviene è che appunto a causa del riscaldamento globale parti di quest'isola vengono allagati per cinque o sei giorni nell'arco di un anno forse due volte l'anno e a causa di questo fenomeno sta avvenendo una desertificazione del terreno e questo a breve impedirà la coltivazione che in realtà è un processo che sta già avvenendo e impedirà la coltivazione quindi la popolazione di quest'isola sarà costretta ad andare a vivere altrove e questo decreterà la fine della vita diciamo di una civiltà la prima conoscenza è stata attraverso un libro a cavallo fra 2008 2009 leggiamo appunto questo libro che si chiama sei gradi è un libro di uno studioso e anche divulgatore inglese incentrato su il possibile procedere attraverso il riscaldamento globale del diciamo del riscaldamento della terra e c'era queste queste sole tre righe che identificavano in Tuvalu il primo luogo al mondo dove vi sarebbe stato una migrazione totale di una nazione cioè tutta la nazione perché è una nazione Tuvalu tutta la nazione cioè gli undicimila abitanti avrebbero dovuto nell'arco si diceva in quel libro fra i 20 e i 30 anni migrare perché costretti appunto a non poter vivere assolutamente più insomma per quanto invece riguarda il nostro approccio sia alla costruzione del film una volta in loco sia alla cultura del luogo che abbiamo visitato possiamo dire che sono due approcci che coincidono nel senso che pur avendo letto alcune cose diciamo non siamo arrivati nudi e crudi a visitare Tuvalu Funafuti per l'esattezza ma abbiamo lasciato un margine di impreparazione rispetto alla relazione con quella cultura con quel luogo e anche con una struttura con la struttura narrativa del film perché ci interessava procedere alla realizzazione della struttura e in loco e con l'aiuto delle persone che abitano e subiscono il fenomeno questo non per un dato come dire etnografico legato alla sociologia legato al clima eccetera ma perché la parte del vero simile che poi viene tradito nei nostri lavori è fondante il nostro lavoro quindi noi siamo senz'altro interessati a evidenziare un aspetto del reale non conosciuto proprio grazie a un approccio che sta nel dare una sensazione di familiarità all'irreale che noi creiamo il fatto di rapportarsi a un certo tipo di evento e rapportarsi sapendo che quello che tu puoi fare non ha nessuna incidenza veramente reale e diciamo ci si trova secondo me di fronte a un annoso problema e noi ci troviamo giornalmente penso cioè chiunque fa fa un lavoro all'interno dell'arte ha un annoso problema che ci che accomuna l'arte alla scienza che è quella di scegliere di volta in volta se piegare o forzare diciamo la descrizione del mondo alle proprie intuizioni oppure adattare le proprie intuizioni alle scoperte del mondo questo è il grande problema cioè questo questo è il nucleo no e questo permette appunto di vedere anche tutto un uno sviluppo della della dell'arte verso invece il documentario noce e quindi con una scelta di campo ma precisa e altri invece che scegliono totalmente insomma una una visione come dire usiamo un termine molto generico insomma diciamo più formalista il nostro problema nello specifico di questo era come poter in realtà forse non fare entrambe le cose cioè no ed è stato molto diciamo non problematico ma molto sofferta insomma questa cosa perché tu sei sei in un luogo dove non puoi esibirti dall esserci lì no cioè dalla tua flagranza di di essere di essere ma non testimone perché lì sei parte no cioè noi sei sono testo per cui poterlo poterlo come dire in qualche maniera gestire c'è emozionalmente gestire emozionalmente è stato è stata la sfida per noi infatti a questo proposito vorrei aggiungere questo che e noi ci siamo ritrovati per la prima volta nel da quando esiste flatform e a fare i conti con con un coinvolgimento che spesso sfugge nei nostri lavori un coinvolgimento che appunto è emozionale e credo che forse per la prima volta abbiamo tradotto alla maniera naturalmente di flatform una compassione che noi solitamente non abbiamo nel nostro lavoro perché quello che ciò a cui abbiamo assistito e che ha e che ci ha coinvolto in quel periodo questo fenomeno e le conseguenze di quel fenomeno e noi l'abbiamo tradotto l'abbiamo manifestato attribuendo al reale un dato di realtà cosa che noi non facciamo mai nei nostri lavori controllandolo come dicevi tu roberto mantenendo un equilibrio tra ciò che noi vogliamo in arte e ciò che ci stava coinvolgendo emozionalmente ma forse per la prima volta abbiamo come dire siamo tornati al dato reale e compassionalmente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti